oggi ricetta classica preparo dei fusilli con finocchietto selvatico e sarde io ho già preparato tutto quello che mi serve posso iniziare la preparazione comunque tutti gli ingredienti li trovo in descrizione ho messo dell'acqua a bollire per lessare il finocchietto che ho già lavato e pulito prendendo tutte le parti più tenere e faccio lessare per una trentina di minuti nel frattempo che aspetto il finocchietto preparo la mollica tostata metto nella padella la mollica e un po d'olio e lascio tostare girandola sempre appena sarà ben dorata è pronta è passata circa una mezz'ora il finocchietto è pronto posso scolare e mettere da parte metto da parte anche il brodo appena il finocchietto vi sarà raffreddato un po' lo taglio grossolanamente e lo metto da parte in una padella calda metto un po' d'olio due spicchi d'aglio tagliate la melle e lascio rosolare aggiungo i pinoli dovetta e i filetti d'acciuga che lascio sciogliere nell'olio due bustine di zafferano sorti in un po' d'acqua aggiungo il finocchietto un po' di brodo sistema di sale una mancinata di pepe ora metto i filetti di sarda sopra la salsa sarda che ho già pulito tolta la lisca e lavate li lascio cucinare qualche minuto ora li giro e faccio completare la cottura anche dall'altro lato basta qualche minuto perché non devono cuocere tanto tutto ho messo il brodo a bollire aggiungo un po di sale e metto la pasta a cuocere la pasta è quasi pronta due minuti prima che la pasta sia pronta la metto in padella completo la cottura della pasta in padella aiutando con un po di brodo della pasta che è carico di amido la pasta è pronta posso impiattare aiutandomi che ho messo la sistemone al piatto metto sopra un po di salsa dei filetti di sarda che avevo messo da parte completo con la mollica tostata fusillotti finocchietto sarda e mollica sono pronti grazie a tutti